Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui nelle sale del casino di campione per quanto riguarda il main event dell'IPT qui in corso per il day 2. 110 giocatori ancora in gara quando i bui come vedete sono aumentati a 800-1600 con l'ante invece a 200. Diamo anche uno sguardo in sala come vedete ancora molto gremita per quanto riguarda questa lunga giornata di gioco vi ricordo che i livelli che si giocheranno saranno 8 da 75 minuti o alternativamente si giocherà fino al raggiungimento dei 24 giocatori ancora in gara. Andiamo anche a fare una passeggiata tra i tavoli per vedere di trovare un po' di action vedete qui davanti a me anche Nicola Ventola ora cerchiamo di andare a inquadrare appunto più da vicino il board. Come vedete il piatto giudicato da Marco Lini ora io vi lascio al blog sul forum appunto come sempre pokeritaliaweb.org per la diretta dell'evento. Ciao a tutti.